Io odio tutto ciò che deve essere obbligato. Se tu prendi Mac, tutto deve essere, cioè, Apple, deve essere tutto, è tutto basagato. Quindi io potrei avere, posso avere, che ne so, il computer della Pinco Pallino e attaccarci qualcos'altro di un'altra nuova? Adesso, ma per decenni hanno avuto il monopolio di no. E allora, tanto vale? Cioè, non vogliono fare soldi solo loro, però... Uno, due, tre... 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 Grazie. 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 Grazie.